Si limita a un semplice no comment il presidente della Gran Sasso Acqua, Amerigo di Benedetto, sulla proposta del presidente del Consiglio Comunale, Carlo Benedetti, di fermare i lavori dei sottoservizi all'Aquila, l'imponente progetto di rifacimento di tutta la rete sotterranea dei servizi acqua, metano, elettricità e fibra ottica da 80 milioni di euro che riguarda ampie zone della città, di cui la fetta più consistente nel centro storico. Un silenzio tuttavia molto eloquente è quello di Amerigo di Benedetto sull'ipotesi liquidata con un lapidario irricevibile, di fermare i lavori almeno nel cosiddetto asse centrale la parte del centro cittadino che va dalla Fontana Luminosa alla Villa Comunale. Proposta che nascerebbe dall'esigenza di non influenzare la ricostruzione post-sisma, che invece, secondo Benedetti, viene costetta delle terri rallentamenti che renderanno una chimera il rientro a casa entro il 2017 per tanti aquilani. La proposta di fermare lavori che forse non sono mai stati realizzati prima in Italia e che si scontano con tanti problemi, primi fra tutti il ritrovamento di parti sotterranee di città che richiedono l'intervento della soprintendenza, piace alla Confcommercio. Viene bocciata dal sindaco Massimo Cialente e divide l'opinione pubblica. Penso che a questo punto lo debbano finire. Faccio solo subito perché se no i lavori sono iniziati, sono stati progettati, programmati. A questo punto non si può tornare indietro. Quello va finito. Presto ma va finito. Fermare o no i sottoservizi? Per me è da fermarlo perché si rallenta la ricostruzione. Già siamo in ritardo di 7-8 anni. Perciò è il caso di fermare questo tipo di costruzione per dare il vantaggio alla ricostruzione. E intanto di Benedetto Invita, che lancia proposte, forse anche spinto dal vento imminente e delle elezioni amministrative che si terranno il prossimo anno, a partecipare al tavolo tecnico aperto a tutta la città, compresa l'amministrazione comunale e i commercianti, istituito dalla Gran Sasso Acqua ogni ultimo giovedì del mese, proprio per parlare di tutti i problemi relativi ai sottoservizi.